buongiorno ragazzi buongiorno a tutti si ritorna su youtube dopo mesi e mesi e mesi e mesi ciao a tutti devo riprendermi un attimo perché non sono più abituato intanto mi si sente perché sto usando la live streaming di youtube per cui non ho idea se mi sentiate oppure no datemi un feedback bene 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 attimo che informo tutti buonasera buonasera ok allora senza cuffie senza niente speriamo che vada tutto bene ragazzi perché veramente non sono più abituato a streamare su su youtube e se non altro non sono più abituato a streamare su youtube da solo perché di solito adesso entro con i miei 50 account perché di solito ragazzi sono sempre in compagnia qui sul tubo comunque benvenuti a tutti ciao tommaso tra l'altro ormai sono troppo abituato a twitch conosco a memoria tutti i nickname di twitch tommaso sei quel tommaso sei un altro tommaso comunque adesso con calma iniziamo iniziamo un po parlare di nba ciao region rondo numero uno numero uno e si invade anche la live del france no ma sono live anche loro non credo non credo ah è un altro vedi a tommaso ranelletti invece è il il famoso tommaso tommaso tommy di youtube si di youtube di twitch allora ragazzi intanto questa live si chiama la birretta col france perché ci sta ci sta su twitch non streammi più si devo solo trovare il modo per per farlo nel senso che attendere io vorrei fare le live su twitch perché da molte più possibilità sondaggi poi adesso ho visto che hanno aggiunto nuove funzionalità che sono carine da gestire in live per cui l'idea sarebbe poi di andare andare di là ho voluto fare questa prima live su youtube perché su youtube siamo molti di più quindi insomma vi invito a seguirmi su twitch perché il mio volere sarebbe quello di andare di andare di là comunque come state intanto avete siete in linea con le ultime news dal mondo nba tanto mi sono arrivati già i primi follow su twitch cacchio al volo proprio grazie mille e meglio su twitch france ma per oggi ci sta su youtube per informare più persone ecco sì esatto il lo scopo lo scopo era proprio quello nel senso che su youtube c'è molta più gente al momento purtroppo e però insomma vi invito a iscrivervi a twitch a twitch a allora 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 intanto sul mio canale youtube come avete visto inizio un attimo con un po di informazioni di servizio su youtube sto ricaricando a poco a poco tutti i video sugli allo famers ho migliorato notevolmente l'audio ho migliorato cioè ho scelto delle basi diverse a seconda del personaggio per cui su team dunca hanno voluto mettere una base pseudo texana un po così sugli altri giocatori ci saranno tutte basi diverse a livello di qualità audio penso sia migliorato parecchio e poi ho sistemato anche quelle due tre inesattezze che avevo che avevo detto nei precedenti video tipo di kevin garnett scelto nel 2015 insomma 1995 era una cosa che mi era sfuggita ma insomma così ho corretto anche queste piccolissime cose e ho voluto rilanciare quella serie tenendo presente che quando ricaricherò tutti quelli che avevo già caricato in precedenza ne entreranno dei nuovi ne entreranno dei nuovi e e soprattutto ho avuto l'ok da uno scrittore uno uno scrittore di storie di sport che ha scritto un bellissimo articolo per usare il suo testo per fare un video la storia è molto conosciuta non vi anticipo nulla però il testo è da brividi per cui insomma nel corso di dei prossimi mesi arriverà arriveranno diversi bei video fatti bene di cui sono particolarmente orgoglione allora intanto non so se sapete ma de marcus cousins ha confermato meglio gli houston rockets hanno confermato il contratto a de marcus cousins fino alla fine dell'anno deve averli convinti a forza di falli tecnici e prestazioni da brividi però tant'è buonasera 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 a tutti allora ieri è di nuovo disegnato palacanestro ed è più vecchio di tutti ah sì no vogliamo subito parlare di lebron james così così allora vediamo una domanda carina un ex mvp mba a fine carriera può fare la differenza in serie a un saluto se un grande continua così intanto ti ringrazio alfonso dipende dipende vediamo un mvp a fine carriera bè jordan è stato mvp nel suo ultimo anno i bulls direi che in serie a avrebbe potuto fare la differenza probabilmente forse derrick rose potrebbe fare ancora la differenza ma non così tanto in serie a è stato mvp anche lui forse ecco westbrook a fine carriera visto che già adesso cammina con le stampelle può essere che che fare farebbe fatica anche in europa cosa ne pensi dell'eliminazione delle conference parere personale io sono totalmente contro dato che penso siano troppo iconiche per essere rimosse e qui si entra in un discorso nicolò intanto ciao si entra in un discorso che ormai va avanti da da parecchi anni parecchi anni e non so darti un mio parere perché sarebbe più giusto unire le conferenze o meglio abolire le conference più che unirle per fare in modo che effettivamente siano le 16 squadre migliori della nba a contendersi il titolo in questo modo vediamo ad esempio adesso stavo vedendo prima i record e ad est sono ampiamente i playoff squadre con record ben ben al di sotto del 50 per cento mentre dall'altra parte ai dallas che ad esempio fuori sarebbe più giusto da un certo punto di vista abolire le conference ma dall'altro aboliresti un pezzo di storia cioè dovresti proprio cambiare la mentalità americana e tutto quello che noi conosciamo dovresti riscrivere tutti i calendari perché dovresti fare in modo che le squadre si incontrassero tra di loro tutte lo stesso numero di volte in più comunque sarebbe più scomodo per via degli spostamenti quindi ci sono sicuramente dei pro che aumenterebbe la qualità generale del dei playoff ma anche dei contro proprio a livello economico trasporti distanze numero di partite tutte queste cose qua come va la schiena il mal di gola mal di gola è passato da un po ragazzi il mal di schiena c'è ancora ma devo essermi strappato di brutto perché ho lanciato la bambina in aria al parco e prendendola ho sentito uno strappone proprio male 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 fortuna che non mi sono strappato tirandola altrimenti adesso veramente sarebbe spatasciata per terra sì sì ma intanto i nets ne erano due di là solo le bronze sei d'accordo non ho capito comunque riformula la domanda reale cosa pensi del fatto davis potrebbe rischiare la stagione io penso che quando non vi essi molto vaghi sono infortuna potrebbe verificarsi il rischio sono in parte d'accordo con te sebastiano intanto ciao benvenuto sono d'accordo con te all'inizio hanno dato un paio di settimane poi tre adesso un mese per me vogliono andarci comunque cauti perché anthony davis è uno che soffre parecchio di piccole magagne piccoli infortuni se ti ricordi alle finali dell'anno scorso gara 5 mi pare c'è stato un momento in cui è rimasto a terra e sembrava si fosse rotto è uscito aggrappato ai compagni e poi è rientrato allora o era una una trollata alla paul pierce che doveva solo andare in bagno a cagà sostanzialmente oppure qualcosa ha e qualcosa ha da un po a quel tallone d'achille a quel tendine d'achille si parla di un'infiammazione si è parlato prima di stiramento al polpaccio poi di infiammazione al tendine d'achille e occhio perché si parlava di stiramento al polpaccio anche per Kevin Durant prima che se lo si rompa il tendine d'achille quindi è giusto andarci con cautela nel caso anthony davis non credo che sia finita o che abbia che ci sia il rischio di finire la stagione ma insomma bisogna tenere monitorata la situazione nel caso circa circolano già alcuni nomi che a me non convincono più di tanto che sono quelli di trevor a risa per esempio intanto se sentite piangere di là è tutto normale trevor a risa e oppure georgie se dovesse contrattare il buyout da da ok si si sono di padova e no non ho tirato la più grande ma la più piccola se avessi tirato la più grande tommaso sarei no piantato adesso sarei probabilmente al cimitero dentro una bara comunque sì sì i nomi che si fanno sono quelli trevor a risa georgie il che sono giocatori diversissimi da anthony davis ma sono comunque veterani buoni difensori e georgie il è già stato con il re nel 2018 alle finali in maglia cleveland per cui si conoscono mettiamola così mettiamola così il lancio della figlia il classico infortunio da mettere fine alla carriera soprattutto se poi non la riprendi quello mette fine proprio a tutto i bugs senza giruoli dei cinque sconfitte di fila un caso per me no giocatore molto sottovalutato e senza di lui mi luocchi non giro per niente sì qua adesso le dichiarazioni di oggi di jannis sono diciamo di quello che tenta di sparare col o di buttare acqua sul fuoco no dice di che sì sono cinque vittorie di fila ma che bisogna star calmi quello che ho visto dei milwaukee bucks di quest'anno è che budenholzer sta provando parecchio a far girare la squadra senza che la palla ce l'abbia per forza in mano jannis ha detto cumbo l'aveva tanto in mano giro holiday adesso che sono cinque partite che non c'è giro holiday probabilmente bisognerebbe tornare a giocare come l'anno scorso perché non sembra che probabilmente dj augustin o lo stesso middleton o anche il buon donte di vincenzo brin forbes siano adatti o abbiano la qualità di portatori di palla di di giro holiday io sono con jannis nel senso nel senso per ora ancora presto sono ancora in fase di test certo è che sono 72 partite ragazzi siamo non dico quasi a metà però insomma all'all star game saremo effettivamente a metà e si parla del 7 marzo quindi tre settimane due settimane e mezzo e da dopo l'all star game e se una squadra come milwaukee dovesse avere una striscia di sconfitte così allora inizierei seriamente a preoccuparmi france visto che l'all star weekend si farà tutto in una sera curry potrebbe rischiare di fare prima la gara da tre poi la partita delle stelle sì tra l'altro visto che la vin presumo sarà uno star quasi lo do quasi per scontato che non partecipi alla gara di schiacciate quindi la gara di schiacciate secondo me sarà una grande cagata ma sarà tutto una grande cagata secondo me cioè non era proprio necessario fare l'all star game quest'anno hanno ci sono i giocatori che sono stanchissimi alcuni proprio si vede si vede palesemente tutti tutti i giocatori dicono di non volerlo fare che il rischio è troppo alto non solo fisico ma proprio riunire tutta quella gente all'interno di un palazzetto per quanto controllati se ti sfugge per caso un asintomatico lì praticamente l'nba va capò perché rischia di contagiare tutti i migliori atleti dell'nba e dopo voglio vedere gli ascolti lo share e tutto quello ci va dietro è un gran rischio fare l'all star game però l'nba ha necessità di soldi in questo periodo e l'all star game soldi ne porta a livello di televisioni sponsor e cose di questo tipo entrambi ok sì george arizza george arizza arizza sì è quella che ha detto sanremo mentre george è la scimmia no non si chiamava george la scimmia vabbè comunque sì georgile trevora risa entrambi di ok sì tra l'altro io sono andato a vedermi un po tu pipi cocaina no credo proprio di no franz odio youtube perché non posso sparare i ginobili al ferro mi dispiace mi dispiace su twitch ci sarà poi un giorno fisso giuseppe devo un attimo organizzarmi nel senso è già tanto che io abbia trovato un giorno per venire qua su youtube adesso vediamo di far mente locale tatum il covid già lo ha preso ok no vogliamo parlare un secondo vogliamo l'nba ha bisogno di soldi che frase no vogliamo parlare un secondo dei celtics perché oggi il buon benny ange ha rilasciato delle dichiarazioni un pelo preoccupanti nel senso che si è assunto tutta la responsabilità del fatto che i boston celtics non sembrino competitivi e però c'è il discorso drammond da tenere sott'occhio perché andrea drammond al cento per cento andrà via dai cleveland calves si cercherà fino all'ultimo di intavolare una trade di modo che i calves non lo perdano a zero ma se non dovessero trovarla il l'ipotesi buy out è più che plausibile e e i boston celtics dicono di essere su andrea drammond region rondo mi dispiace per te ma pare che siano solo andrea drammond io non capisco sinceramente ai tristan thompson che già non è che stia facendo grandi cose chiaramente drammond è sicuramente superiore a tristan thompson però quello che mi fa specie è vedere brad stevens che continua a schierare daniel thais da numero quattro quindi con un doppio lungo una sorta sorta di doppio lungo in campo e mi fa un minimo sorridere nel senso che i boston celtics sono andati alla grande con taytum da centro nella passata stagione comunque negli ultimi anni perché stravolgere solo solo perché è tristan thompson che magari non vuole partire dalla panchina chissà però e france forse potrei aver trovato la dopo ne parli a ne parliamo su twitch di quelle cose dove vedi o la dipo anche per lui si parla di trade sì anche per lui si parla di trade perché è in scadenza di contratto e probabilmente ha già detto o ha già fatto capire comunque a houston che non ha la minima intenzione di restare lì per cui anche lì houston per non rischiare di perderlo a gratis e probabilmente sta cercando una qualche trade io francamente non so l'ipotesi o la dipo adesso pietro la dipo a boston solamente se houston si andesse quella chiavica di camba walker ma cosa se ne fa di camba walker e john wall per me o la dipo io secondo me rimane aperta un minimo la strada la strada miami hit rimane aperta un minimo la strada new york nicks che sono due mete dove probabilmente o la dipo ci starebbe bene vero che i nicks hanno preso derrick rose che però in scadenza vero che hanno emmanuel quickley che comunque può giocare anche in coppia con la dipo bisogna capire se i nicks riusciranno hanno il materiale per mettere insieme un pacchettino da mandare a houston io o miami o miami o new york per me sarebbero due mete ideali per o la dipo o la dipo dispiace spero di rivederlo a grandi livelli anch'io perché quell'anno lì quell'anno lì prima che si facesse male mi ha fatto impazzire è stato veramente uno spettacolo per gli occhi ciao franz domanda ignorante stiamo vedendo i clippers vincere senza le due stelle i nicks per formare bene senza big tree in questo scenario i lakers sono davvero i strafavoriti non lo so non lo so più meglio sui nets avevo molti dubbi così entriamo anche nel discorso nets sui nets avevo tantissimi dubbi tantissimi le ho espressi in più di qualche video ma ci hanno messo molto meno tempo ad accordarsi sui ruoli perché ora chiaramente il buon barba è il playmaker fa il playmaker poi se manca uno degli altri due fa anche il realizzatore ma quando ci sono tutti e tre arden fa il playmaker e lo fa divinamente cioè cosa ci siamo persi a houston per anni di anni di isolamenti di di 24 secondi buttati nel cesso quando c'hai arden che può fare questo tipo di playmaking è veramente incredibile e quindi i nets hanno anche fatto i movimenti giusti cioè hanno preso solo grandissimi difensori sugli esterni su sul backcourt hanno preso vabbè iman champert che comunque il suo anche livello difensivo lo fa e andrea robertson che è un grandissimo difensore hanno scelto di mettere bruce brown in quintetto per dare un po più di equilibrio e joe harris in uscita dalla panchina quindi questi aggiustamenti diamo anche un po di merito a steve nash ammesso che sia stato lui a decidere però diamo un po di merito al coaching staff diciamo dei nets perché in pochissimo tempo hanno trovato un equilibrio che non pensavo cazzo che non pensavo i nets hanno preso dei morti non dirlo potrebbero anche essere dei morti ma era quello che serviva cioè difensori non mi interessa che arrivi gente che sappia tirare da tre o che sappia segnare voglio della gente che cazzo abbia la voglia di difendere e per me andrea robertson iman champert al minimo salariale perché non hanno spazio salariale quindi non è che possono prendere non lo so j crowder no quindi hanno preso coi soldi che avevano il meglio che potevano prendere secondo me sì è vero non gioca da 50 anni però era un buon difensore cioè c'è poco da fare ribadisco coi soldi che hanno non possono ambire a più di andrea robertson per cui lo specimen che hanno puntato è un difensore difensore non gli interessa un cazzo se tirano o non tirano se segnano non segnano se possono giocare 40 minuti o 10 a loro servono dei difensori che possano nel periodo in cui stanno in campo difendere bene magari coprire un po di buchi lasciati da da kairi erving e james sarden basta questo tatuaggio siete proprio stronzi cazzo chi mi segue su twitch lo sa allora kemba ma occhio nel contesto boston perché mi piace come giocatore un sacco tatum non lo discuto ah no vabbè state parlando tra di voi ci sta cosa ne pensi dei sans allora eh beh aspetta c'era c'era il discorso sui clippers un po da fare anche in questo caso abbiamo abbiamo tanto sfottuto paperino lu il buon tyron lu che è una marionetta che è stato scelto dai giocatori che insomma è un finto allenatore però i clippers a si sono mossi alla grande l'ho detto più volte perché cazzo batum al minimo salariale è un furto i bacà quelle cifre è un furto tutto sommato anche che narda sta facendo qualcosa di buono e soprattutto si vede si vede del gioco l'anno scorso se vi ricordate i clippers erano solo isolamenti uno a me uno a te uno a me uno a te uno a lu williams un pick and roll con arrell cioè non vedevi nient'altro quest'anno ci sono dei principi di gioco magari semplici non troppo complessi ma che stanno dando i loro frutti si vede soprattutto quando mancano magari o uno dei due o entrambi George e Leonard hanno vinto contro i Miami Heat senza Kawhi Leonard Paul George e Patrick Beverly per cui sono molto più solidi hanno molta meno pressione perché l'anno scorso veramente erano dall'inizio dell'anno alla fine dell'anno la favorita da parte di tutti quest'anno partono da più in basso partono proprio in totale sordina e comunque stanno facendo la loro la loro porca stagione tenendo conto che non so quanto veritieri siano questi infortuni perché secondo me so è load management mascherato però come sapete l'NBA da quest'anno ti multa per load management e quindi devi inventarti degli infortuni insomma poi indagheranno vedranno prenderanno anche delle multe o magari hanno male veramente fatto sta che quest'anno i clippers sono molto più pericolosi dal mio punto di vista rispetto allo scorso anno a maggior ragione se la stagione dovesse andare avanti normalmente cioè nelle proprie arene e non in un contesto di bolla dove tutti quei polli all'interno di un unico pollaio poi hanno fatto implodere i Los Angeles Clippers cosa ne pensi dei Phoenix Suns eccolo qua Lorenzo allora i Phoenix Suns a inizio stagione li avevo dati quinti mi pare quinti ad ovest perché a parer mio Chris Paul era il giocatore ideale era il giocatore di cui di Andre Hayton e Devin Booker avevano bisogno cioè hanno bisogno di un giocatore con una certa mentalità che li affiancasse per un paio d'anni ho visto un salto di qualità enorme di Devin Booker enorme non è più solo un realizzatore fine a se stesso ma è un signor giocatore sta crescendo sta assorbendo il più possibile da Chris Paul a livello di mentalità e devono trovare ancora un po' di continuità però hanno trovato Michael Bridges che è una grandissima sorpresa e al momento credo sia il secondo realizzatore della squadra secondo forse terzo e c'è Jay Crowder che insomma se c'è un motivo per cui Miami Heat l'anno scorso o uno dei tanti per cui l'anno scorso hanno fatto quello che hanno fatto secondo me Jay Crowder che è stato sempre sempre sottovalutatissimo io non capisco non capisco il perché ma è un giocatore che in difesa ci dà che in attacco non ti penalizza che non pretende possessi ma quando ha la palla in mano tira senza problemi io continuo a dire che Jay Crowder sia uno dei giocatori più sottovalutati non dico di star ma giocatori diciamo di buon livello sottovalutati ancora troppo sottovalutati hanno trovato Cameron Johnson che sta facendo una grandissima stagione c'è Cameron Payne la panchina è lunga e li vedo ampiamente ampiamente i playoff per me si giocheranno addirittura il passaggio del primo turno non credo possano andare più in là sinceramente però saranno fastidiosi da incontrare fastidiosissimi da incontrare i playoff un attimo che torno indietro con la chat perdonami per la faccina del tatuaggio ancora il tatuaggio cosa ne pensi di Griffin? dove lo vedresti in qualche trade e perché? allora la situazione a Blake Griffin è particolare perché mi sono letto oggi pomeriggio alcune ipotesi di trade fantasiose o altro allora le ipotesi sono due per Blake Griffin che sappia io una che è altamente improbabile se non impossibile è quella che contratti un buyout però avendo una player option da 40, 1, 2 milioni per l'anno prossimo io non credo sia così scemo e nessuno gli offrirà quelle cifre non credo sia così scemo da rifiutarla ipotesi trade ne ho lette diverse ma non c'è nessuno in NBA che possa assorbire il suo contratto a livello di squadre di alto livello io butto lì l'ipotesi Oklahoma City perché a Oklahoma City non gli interessa assorbirsi il suo contratto perché tanto a fine contratto lo lascerà andare via magari lo scambia per non so ci sono una serie di giocatori a Oklahoma City tipo Arisa che non gioca e che prende parecchio Darius Miller che non gioca e prende 7-8 milioni George Hill o Justin Jackson magari Justin Jackson può essere usato come esca perché ha 25 anni però non è mai esploso e magari con un pacchetto così ti prendi Blake Griffin e eventualmente una scelta perché alla fine ok sì quando scadranno il contratto di Orford e eventualmente di Griffin andrà tutto con i giovani per cui è l'unica squadra che non ha ambizioni e che potrebbe provare ad assorbire il contratto di Blake Griffin come ha fatto con quello di Orford non credo che nessun'altra nessun'altra squadra sia disposta a imbastire delle trade per prendere un giocatore finito ahimè sembra sembra poi magari MVP l'anno prossimo secondo me in ottica playoff meglio i BK di RL sono d'accordo con te Michele l'ho sempre sostenuto ai Clippers meglio i BK che RL ai Lakers meglio RL che i BK quindi diciamo è stata una mossa win-win tra Lakers e Clippers per me perché RL sfrutta gli spazi lasciati da magari raddoppi su Anthony Davis mentre i BK allarga il campo e lascia spazio a Kawhi Leonard del suo gioco da mid-range e magari a qualche zingarata di Paul George quindi per me sono d'accordo con te insomma sono molto d'accordo con te pensi che San Antonio possa vincere la Southwest Division nonostante Dallas grazie ti metto sempre like sei troppo gentile Andrea e San Antonio ragazzi io non so che dire cioè andate a rivedervi le prediction dei record dei power rankings di chiunque in questo mondo all'inizio della stagione e San Antonio era penultima terzultima cioè ultima Oklahoma City penultima terzultima San Antonio e che dire il vecchio Popovic sta facendo l'ennesimo miracolo lui RC Buford il sistema Spurs hanno scelto dei giocatori che stanno esplodendo che hanno avuto bisogno di un po' di tempo De Jong-Temurray Lonnie Walker ma adesso ragazzi giocano giocano bene cioè giocano non dico da veterani ma giocano veramente molto bene De Mar de Rosane è la sua miglior stagione secondo me in carriera magari non a livello statistico ma come impatto sul gioco come scelte come assist anche a livello statistico per cui io bastava fare un passo indietro direbbero molti sia per lui che per Aldridge cioè hanno iniziato a tirare ad allargare un po' di più il campo a tirare da tre e magicamente San Antonio ha un record stra-positivo e rischia di vincere la Southwest cioè qualcosa di impronosticabile totalmente impronosticabile grande merito a Popovic che anche Popovic lo davano tutti per morto come allenatore tanti dicevano che la rebuilding degli Spurs doveva per forza passare dal cambio di allenatore secondo me invece Greg Popovic sta preparando la prossima al prossimo gruppo di giocatori che poi lascerà probabilmente a Becky Hammond quindi alla prima allenatrice head coach donna della storia NBA questo è quello che credo io e credo avverrà entro un paio d'anni Franz ma cos'è il Team USA intendo quello nel quale gioca Isaiah Thomas se riguarda Thomas pensi possa tornare in NBA magari proprio a Boston ciao Nicolò intanto beh Team USA è la nazionale è la nazionale gli Stati Uniti si chiama Team USA è un po' come Ital Basket qua lì si chiama Team USA c'è questa coppa americana che credo siano le qualificazioni per o i mondiali forse e di solito quelle competizioni non le fanno i giocatori NBA a maggior ragione giocatori di alta fascia e hanno preso Isaiah Thomas Joe Johnson Aiso Joe e un altro paio di giocatori o ex giocatori o giocatori senza squadra attualmente e li hanno mandati insomma li hanno convocati di là semplicemente quello su Isaiah Thomas io ribadisco quello che ho detto un po' nel mio video ovvero quando ci fu lo scambio con Kyrie Irving in tutti cioè tutti quanti compresi anche i tifosi di Boston probabilmente hanno detto grande cioè abbiamo preso uno dei migliori perché Isaiah Thomas grande cuore grande pride tutto però non vinci con Isaiah Thomas ha troppi limiti fisici limiti difensivi con Kyrie Irving tutti pensavano che Boston potesse aver fatto un salto di qualità poi si è rivelato uno sciamano un pazzo uno che disfa gli spogliatoi poi sono stati sfigati con l'infortunio di Gordon Hayward e tutto quello che volete quello che mi sorprende è adesso che Boston cazzo c'ha una panchina che più corta non si può perché deve preferirgli uno come Jeff Teague piuttosto che uno che per la maglia per quella maglia ha dato il cuore ha dato il dente anche ha dato tutto al minimo salariale cioè perché non gli dai una possibilità di questo tipo dico io io francamente non non capisco cioè poi magari puoi anche non farlo giocare puoi anche farlo giocare cinque minuti puoi anche preferirli Jeff Teague ma cacchio almeno un minimo di riconoscenza io non lo so sarò troppo troppo buono troppo buono di spirito non so che dire però sì mi fa strano che che a Boston non ci abbiano ancora pensato ecco o o si è lasciato male che non si sa però per me sì io faccio fatica a capirlo Franz Teague è una merda ma lì siamo troppo lunghi vabbè ho capito Rajon allora non so non prendevi Teague prendevi direttamente Isette Thomas poi hai Pritchard che per carità adesso ti dà minuti di qualità ma cioè Pritchard ragazzi per quanto buono possa essere non è un playmaker da una squadra che si professava contender non puoi avere partire in quintetto con Pritchard cioè è un problema è un problema se devi avere Pritchard in campo quando la partita si fa viva ecco dove possono arrivare questi Golden State ciao Gabriele intanto allora Golden State prima dell'inizio della stagione li avevo pronosticati tanto in alto troppo in alto e non dico nemmeno dove ma chi mi segue da tempo sa che ho preso una sorta di abbaglio o meglio ci speravo speravo veramente che tutto potesse tornare e incastrarsi a meraviglia invece insomma è iniziata un po' a rilento la stagione dei Golden State Warriors però alla fine penso abbiano trovato una sorta di quadra con Juan Toscano Anderson da finto centro da falso pivo falso nueve ciao Omar intanto secondo me Juan Toscano Anderson è un giocatore che ha letture migliori di Wiseman sicuramente ci vuole poco che dà un po' più di sostanza offensiva rispetto a Kevon Looney che conosce il sistema ormai a memoria ma che ha evidenti limiti offensivi e il falso Cinco però a me non dispiace ve lo dico chiaramente a parte il cognome che fa un po' ridere ma Juan Toscano Anderson sta facendo bene per me hanno trovato anche il giusto ruolo per Kelly Ubre cioè lo vedo sempre più spesso in pressione forte sul portatore di palla quindi sfruttarlo per le capacità fisiche e anche in difesa poi dall'altra parte ogni tanto ti mette le triple ogni tanto non ne mette una neanche per sbaglio non è per niente continuo ma quantomeno adesso ha un ruolo ha un suo perché mentre prima all'inizio stagione erano inguardabili lui e Wiggins buonasera Federico buonasera anche a te che squadra Tiffin NBA volete rispondere voi che mi seguite da tempo in chat Fabrizio simpatizzo Toronto Raptors dal vediamo se lo scrive qualcuno buonasera buonasera simpatizzo Raptors da che anno dal ciao Vasco 99 bravi madonna mia come mi conoscete ormai simpatizzo Raptors dal 99 eh sì perché madonna mia oh con calma con calma con calma tranquilli dal 1942 anno in cui è stata prodotta questa birra mi conoscete meglio di mia moglie allora adori carter doge grande non sei una bimba di kawaii mia moglie era una bimba di conte ma ma oltre l'nba si parlerà anche di faiga la cara è vecchia la cara è vecchia allora vedi Simone no no c'è la moglie in chat mi sta ascoltando cosa ho detto mi inesota nel cuore dal 96 ce l'hai tu Tommaso non ce l'ho io mi inesota nel cuore dal 96 comunque sono usciti i quintetti per lo star game sono usciti i quintetti per lo star game non dire così De Massimo Dani comunque Lebron Donchich Jokic Leonard Curry credo sia il quintetto più illegale ogni epoca la butto lì la butto lì perché io un quintetto a me un quintetto così fa paura fa veramente paura Stephen Curry Luca Donchich Lebron James Kawhi Leonard e Nicola Jokic che grazie Fabrizio troppo gentile che è per te il GOAT puoi argomentare uff allora caruso a parte giusto caruso a parte allora che parametri si usano che parametri si usano per valutare il migliore di tutti i tempi parametri di regular season titoli vinti statistiche ai playoff se ne facciamo un discorso di titoli vinti credo ci sia un'unica persona che è Bill Russell che ne ha vinti undici in tredici stagioni però erano altri tempi ok se ne facciamo un discorso di longevità io dico Lebron James perché non si è mai visto uno che per 18 anni gioca in questo modo e con questo impatto fisico quando voi continuate a scrivere robe su mia moglie io non sto leggendo se ne facciamo un discorso di cattiveria di clutch di quando la partita di quando la partita contava veramente Michael Jordan se ne facciamo un discorso di uomo squadra probabilmente Tim Duncan perché perché ci sta anche lui longevità c'è anche Karim ma aveva un tipo di gioco diverso Karim Lebron James ha un gioco molto fisico ancora a 36 anni mentre Karim che è arrivato a quasi 40 anni forse anche a più di 40 anni aveva quel suo tiro immarcabile che era immarcabile è stato immarcabile in qualsiasi sua età però se avendo vissuto le ere di Jordan di Kobe Bryant di Tim Duncan e di Lebron James io ti posso dire che tra questi quattro mi tocca dire Lebron James per un fatto proprio complessivo poi so che mi sono sputtanato dicendo un nome ma mi dicono sempre di essere un democristiano e di non dire mai o di girarci sempre intorno io vi dico che secondo me è Lebron James primo perché non ha ancora finito quindi occhio e poi perché di fatto diventerà il miglior realizzatore dell'NBA uno dei cinque migliori assistment ogni epoca uno che ha vinto quattro titoli forse di più e per cui ci sta sarebbe stato bello poter vedere Jordan senza ritiri ecco quello effettivamente è un qualcosa che che ti lascia un che di vuoto cioè se non si fosse ritirato Jordan magari i Bulls avrebbero vinto per tutti gli anni 90 dal 91 al 99 chi lo sa il problema è che proprio è un what if anche quello gigantesco ciao Tore è un what if gigantesco anche quello non sapremo mai è che su Jordan pesa il fatto che ha giocato molto meno molte meno stagioni di Lebron James e chissà se avesse giocato quei due anni a cavallo tra il 94 e il 95 quindi 93 e 94 e 94 e 95 e se non si fosse ritirato alla fine del 98 non lo sapremo veramente mai mi sto perdendo nel frattempo un po' di domande mi dispiace sprie il mio got che ne pensi di Facundo allora su Facundo ci siamo espressi un po' un po' storcendo il naso inizio anno tutti con tanti dubbi sul sull'aspetto fisico sul fatto che sia piccolino eccetera in più inizio anno Denver lo usava come tiratore perché come detto più volte bianco che viene dal basket europeo tu sei un tiratore cioè gli veniva preferito Monte Morris a portare palla e francamente se non fai portare palla a Campasso non so a cosa possa servirti Campasso adesso Denver c'è da dire che gli sta dando la palla in mano più spesso si sono viste delle giocate pick and roll Campasso Jokic in cui comunque caschi male perché entrambi vedono delle linee di passaggio incredibili io sono ancora fiducioso sono ancora fiducioso su Facundo non è più giovanissimo per carità non credo abbia tanti anni ma per me se Denver lo sa usare riesce ad usarlo in maniera proprio nella maniera giusta Denver può può anche fare un leggero salto in avanti rispetto a quanto non stia facendo adesso però sono ancora fiducioso o meglio sono più fiducioso adesso rispetto a inizio anno su Facundo Campasso Campasso Campascio buonasera Franzo sono ragazzo di Instagram tutto bene comunque mi chiamo Vincenzo tutto bene ciao Vincenzo benvenuto come vedi fila ai playoff Marco allora come vedo fila intanto la vedo bene intanto sì la sala delle torture è di là e mia figlia sta vabbè insomma comunque lo vedo la vedo bene per ora sembra avere un minimo un pochettino rallentato ma penso sia fisiologico e continuo a a non aver ben compreso se Philadelphia voglia effettivamente continuare a puntare anche su Simmons cioè ci sono la partita che ha giocato Simmons senza Embiid che ha messo 42 punti mi pare 10 rimbalzi eccetera Simmons che ogni anno dice no ma adesso tirerò da 3 e poi ogni anno passa e non tira mai però si sono mossi alla stragrande lo abbiamo detto tante volte hanno preso esattamente i giocatori che servivano gran merito a Daryl Morey gran merito a Doc Rivers per averli messi in campo hanno anche già passato loro con Seth Curry il periodo diciamo in sottonumero causa Covid per cui diciamo che da ora in avanti in teoria sono abbastanza protetti dal pericolo lo stesso discorso vale per i Boston Celtics per esempio perché c'è questa ulteriore incognita che ti può prendere in qualsiasi momento e il problema è che se ti prenderai i playoff e magari ti prende un giocatore chiave della squadra ti rovina una stagione chi invece c'è già passato tipo Kevin Durant tipo Jason Tatum tipo Carl Anthony Towns che ai playoff comunque ci arriva però almeno è salvo tra molte virgolette o Seth Curry che sta giocando divinamente su Philadelphia io ho visto gli ultimi Nets e per me se giocano così i Nets hanno pochissimi rivali se non nessuno a Est però Philadelphia è lì è lì sarebbe bello vedere una finale Philadelphia Brooklyn Nets io continuo a non dar per morti i Milwaukee Bucks perché secondo me è solo un periodo e comunque comunque insomma hanno due volte MVP possono dar fastidio anche i playoff con Drew Holiday a roster al posto di Bledso che per carità meglio 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 tagliarlo buonasera ok vado giù scorro la chat scusatemi Franz parli di Duncan così lo fai conoscere che ancora non sa chi sia oddio c'è veramente bisogno ragazzi allora io ho vissuto tutta l'era Duncan da quando è stato scelto a quando si è ritirato come ho vissuto tante ere insomma ormai seguo la NBA dalla fine degli anni 90 più o meno quindi ormai ho visto tanti giocatori entrare e ritirarsi proprio lungo tutta la loro carriera Tim Duncan è uno di questi Kevin Garnett ad esempio nei primissimi anni non l'ho visto io in prima persona la stessa cosa vale per Kobe Bryant ho visto ad esempio Vince Carter dall'inizio alla fine Tim Duncan dall'inizio alla fine McGredy dall'inizio a dove è arrivato Dwayne Wade insomma tanti giocatori dall'inizio alla fine Tim Duncan intanto è stato scelto da essere Antonio Spurs alla uno semplicemente perché nella stagione prima David Robinson si era infortunato Sean Elliott aveva avuto un problema a rene per cui ha avuto un trapianto e tutta una serie di complicazioni e gli Spurs disputarono una stagione orripilante ebbero la prima scelta e l'anno successivo con Duncan più i rientri di Robinson ed Elliott si trovarono magicamente a essere una contender da subito Duncan da un lato ha trovato l'ambiente probabilmente più congeniale al suo carattere perché è stato sempre uno molto introverso magari chiuso poco loquace ecco d'altro canto la dinastia Spurs è Tim Duncan cioè senza Tim Duncan scordiamoci vent'anni di dominio di Popovic e compagnia cantante per cui magari non era appariscente non ci facevano i mix su YouTube perché magari i canestri non erano esattamente delle magie aveva dei fondamentali clamorosi in post usava il tabellone per segnare come nessun altro all'epoca e in più difensivamente non sbagliava mai difensivamente a livello di posizionamento di aiuto di chiusure proprio perfetto negli ultimi anni quando il fisico l'ha abbandonato anche offensivamente non si muoveva più ma se andate a rivedere molte azioni e molte partite dell'ultimo periodo di duncan magari faceva dei blocchi blocchi ciechi che non si notano ma che ci sono oppure si proponeva in mezzo all'area e subito scaricava negli angoli per le triple ha cambiato completamente il suo gioco non era più al centro lui ma era una coralità e io penso di aver visto poche volte giocare bene a basket come nel 2013 e 2014 i San Antonio Spurs avendo un 38enne come capitano e leader e qui chiudo il capitolo il capitolo Tim Duncan buonasera Franza attualmente chi è il tuo giocatore preferito della Lega? Clay Thompson ti ho sorpreso ok che non sta giocando però io ci spero spero che possa rientrare anche solo al 90% delle sue capacità Franz Kredi che tra una decina di anni potremmo dire di Towns come uno dei più grandi what if della storia Marco Travisan questa potrebbe essere una bella domanda se solo le aspettative su Carl Anthony Towns saranno altissime l'ho detto più volte che dopo il suo anno da rookie i diciamo intervistati general manager tutti quasi tutti hanno detto che nel caso di rebuilding avrebbero preso Carl Anthony Towns come stella della squadra diciamo che nell'ultimo periodo non gli è andato bene niente a Towns tra il discorso covid famiglia parenti covid a lui gli infortuni dello scorso anno il problema è che non l'abbiamo detto in una delle ultime live che secondo me cioè il suo grande punto debole è la difesa ma non difesa uno contro uno fisica è proprio che non ci arriva sembra che proprio non ci arrivi non capisca in che modo dove mettersi nella difesa di squadra e questo è un grande problema se vuoi essere la stella il capitano di una squadra sul what if lo vedremo tutto sommato è ancora abbastanza giovane magari tra un paio d'anni c'hai che ne so il Lebron della situazione che va in una squadra e magari dice voglio Carl Anthony Towns esattamente come ha fatto Lebron con Kevin Love Kevin Love se fosse rimasto a Minnesota sicuramente non avrebbe vinto una fava parliamoci chiaro Kevin Love è un altro che in carriera diciamo ha avuto ha grossi limiti difensivi probabilmente anche parecchi problemi a livello proprio personale mentale lo sappiamo tutti la depressione grande tiratore ottimo rimbalzista bel giocatore ma se Carl Anthony se un giorno magari che ne so fai un nome Luca Doncic va non lo so ai New York Knicks e dice io con me voglio Carl Anthony Towns e boh quest'altro e Zion Williamson no però magari gli capita una cosa alla Kevin Love per cui va in una contender magicamente e magari lì può fare può fare il salto di qualità o può fare può magari anche arrivare ai playoff per una volta perché c'è arrivato solo un anno con Jimmy Butler ai playoff quindi e condivido il tuo ragionamento sul GOAT però non posso farci niente le ultime due stagioni a titolo di Kobe mi fanno ancora svendere le lacrime magari sarà un romantico no ti capisco insomma ti capisco ti capisco andiamo un attimo sono rimasto parecchio indietro sono rimasto parecchio indietro c'è un'altra domanda ragazzi che squadra Tifi Franz se volete rispondere voi che ormai lo sapete ciao Franz dato che Middleton ha fatto schifo ho messo Eric Pascal mossa giusta non so quanto che punteggio abbia fatto Middleton in Dunkest immagino tu ti riferisca ma se ha fatto meno di 15 si metti Eric Pascal cosa ne pensi della carriera di Rose cosa ne penso della carriera di Rose sfigato io all'epoca si parla ormai di dieci anni fa mi ricordo c'era esisteva ancora MTV forse c'è ancora MTV chi lo sa ormai sono troppo vecchio di M per saperlo andavano costantemente in onda le pubblicità all in for the Rose dopo il primo infortunio fu ospite anche a Total Request Live può essere un programma che facevano dal Duomo di Milano in quella zona lì fu ospite d'Eric Rose al Duomo di Milano a MTV e sta di fatto che mi ricordo perché era assillante la pubblicità all in for the Rose all in for the Rose poi rientrò e si fece male di nuovo e da lì all out cioè proprio sono scappati da di Rose per me ha ancora qualcosa da dire cioè a 32 anni ha ai Knicks in questi Knicks che possono tornare ai playoff dopo parecchi anni per me ha qualcosa da dire ancora Derrick Rose poi in scadenza magari l'anno prossimo qualche contender seria può pensare anche di prenderselo al minimo però per me qualcosa da dire ce l'ha ancora Derrick Rose io non voglio gettare la spugna guarda sono all in for the Rose preferisci gli anni 90 i cui nostalgici mi hanno abbastanza rotto il cazzo gli anni 2000 a 2010 io preferisco gli anni 2000 a 2010 devo essere sincero perché li ho vissuti proprio in prima persona tanto 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 per chi mi segue da diversi anni io ho avuto diversi canali su youtube così mi faccio una piccola lode alla alla resilienza la mia resilienza ho avuto diversi canali su youtube che attraverso cui postavo highlights in italiano quello che fa adesso praticamente spazio highlights quello che ha iniziato a fare belli io prima di belli li facevo io dopo mi hanno chiuso un paio di canali per questioni legate al copyright giustamente non non dico non dico nulla però il problema è che io ho una quantità di materiale in videocassetta che ho convertito dal praticamente fine anni 90 al 2010 che faceva fa paura e avevo voglia di condividerlo comunque questo materiale per cui ho aperto all'epoca il primo canale youtube con questo intento dopo me ne hanno chiuso uno me ne hanno chiuso un altro e allora ho deciso di cambiare ho deciso di darmi di mettere il mio faccione e parlare in prima persona di NBA io ho adorato i primi anni 2000 li ho veramente adorati perché secondo me c'era una concentrazione di all of famer tutti in quegli anni e i più diversi tutti diversi uno dall'altro c'era l'Iverson Basso Ghetto con le trecine tutto vestito di collanoni c'era Sheck che era enorme dominante temuto da tutti c'era Duncan che era quello zitto che faceva sempre la cosa giusta non apriva mai bocca c'era Garnett che era il contrario cioè quello che parlava a sproposito in qualsiasi situazione c'era McGrady che era il più talentuoso in assoluto ma quello con meno voglia di fare c'era Kobe che invece era quello con in assoluto la mentalità più più da stella più da professionista dell'intero Cucuzaro c'era il primo vero europeo di Dirk Nowitzki il primo vero europeo che ha stravolto il gioco c'era Jason Kidd Steve Nash è arrivato Manu Ginobili insomma c'era veramente una concentrazione c'erano ancora alcuni vecchi centri della fine degli anni 90 perché c'era Mutombo per esempio per cui è stato quel periodo di transizione tra il gioco d'area e il 7 seconds or less quindi l'allargamento dei campi del campo e si è visto proprio nel corso degli anni ogni anno che passava il cambiamento del gioco e l'ho vissuto proprio da vicino in quegli anni guardavo qualsiasi cosa potesse riguardare l'NBA e sono contento di averlo fatto visto che nel 2021 sono qui che parlo con voi non vi conosco mi seguite mi mettete dei like a dei video dove semplicemente racconto quello che ho visto coi miei occhi per cui di questo veramente vi devo ringraziare vi devo ringraziare tanto le famose trecine di Lavaredo sei un mona Georg Muresan ma nella faida Fox Christie da che parte stavi beh addio diciamo che stavo dalla parte di Christie te lo dico chiaramente uno perché Fox mi stava sui coglioni e stava insieme a Miss Moon Miss Universo ecco da Christie invece era uno dei giocatori più sottovalutati del mondo cioè era brutto intanto aveva le visioni perché sapeva passare la palla in un modo clamoroso e aveva un buon tiro anche se poi in quella gara 7 con i Lakers tirò un piccione viaggiatore dopo quello di Stojakovic ci fu il mattone di Doug Christie però è un giocatore che faceva parte di quei Raptors che io dico di simpatizzare perché c'erano Carter McGrady c'era Doug Christie c'era Antonio Davis e c'era una serie di giocatori forse forse c'era anche Akimo Lajuan proprio verso la fine però io stavo assolutamente dalla parte di Doug Christie e di quei Sacramento Kings tac esatto tra l'altro c'era anche un altro americano ritenuto più forte di Kobe Bryant adesso dove gioca su Marte oddio ricordami ricordami il nome perché detto così Iguodal ha rubato l'MVP delle Finals a Steph non credo Alfonso Steph fece delle Finals pessime nel 2015 ha detto e anche Klay Thompson a dire la verità forse potevano darle a Lebron James che sarebbe stato il primo e unico MVP delle finali pur avendole perse perché quello che ha fatto Lebron James in gara 2 e 3 di quella serie senza Kyrie Irving senza Kevin Love è stato impressionante però alla fine non penso che l'abbia rubato non credo insomma alla fine a livello di cifre ci poteva stare ci poteva stare bravo è centrato il punto erano anni di diversità di talenti oggi tendono tutti ad un modello e finiscono per somigliarsi tutti mediamente sono più forti adesso ma che anni quelli Simone nome di nome ci siamo capiti adesso l'idea è che debbano tutti uniformarsi al fatto di dover tirare da 6 7, 8, 9 metri 10 metri un tempo ogni giocatore aveva la sua peculiarità e nessuno sembrava fuori ruolo fuori epoca è proprio quel periodo di transizione tra l'epoca in cui si giocava solo in mezzo all'area e l'epoca in cui adesso si gioca praticamente solo fuori dall'area in mezzo ci sono stati tanti giocatori che erano delle vie di mezzo ognuno con le sue caratteristiche ed è stato un bellissimo periodo dal mio punto di vista Franz il pirata del web contro le leggi del copyright no 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 Franz hai la partita del 2006 gara 4 contro Phoenix probabilmente si se l'hanno trasmessa in Italia sono bellunese ovvio che sono mona pensavo fossi rumeno Gheorghe grazie a te Franz avresti dovuto iniziare prima a fare video sull'NBA ognuno ci arriva alla sua età se avessi iniziato anch'io a 18-19 anni come fede di Step Back probabilmente non esisteva ancora YouTube per cui fate Vobis chi speri vinca il titolo tra le contender per tali intendo Lakers Clippers Bucks Nets Celtics e 76ers posso dirti una sarei no contento però non mi starebbe così antipatico che lo vincessero i Clippers così l'anno scorso mi stavano ampiamente proprio sui maroni e non vedevo l'ora che uscissero quest'anno ti devo dire che sotto traccia così un ultimo titolo a una squadra costruita da Jerry West sarebbe stato male Franz agli inizi del 2000 ci sono stati pure alcuni dei peggiori draft di sempre ma anche alcuni dei migliori caro region tipo LeBron James per esempio e poi per carità ti becchi un Kwame Brown o ti becchi un non lo so un Andrea Bargnani allora ti capisco però diciamo che in mezzo c'è stato LeBron James che diciamo risolve un po' tutti i problemi legati ai draft dei primi anni 2000 allora ah West ha vinto sì ok scusate Jerry West ha vinto l'MVP delle Finals da perdente vabbè insomma si torna non era ancora nato mettiamola così magra giustificazione mi salvo in corner Franz chi preferivi tra Sam Cassell e Starbury e tra Cattino e Mobley in merito a Tom McDyce qua si va Sam Cassell aveva quella sua faccia e quel suo tiro dalla media dal mid range in avvicinamento che era letale Marbury ha avuto due tre anni di dominio secondo me tecnico incredibile però senza mai raggiungere risultati di squadra Cattino Mobley e Totò McDyce sono sempre stati due giocatori che attualmente li potrei paragonare a Jarrett Allen no dai no Jarrett Allen no ma boh mi devono venire dei nomi tipo Otto Porter Cattino Mobley lo vedo molto Otto Porter con meno difesa magari e con più capelli bianchi e McDyce lungo con una discreta mano dal mid range un boh non ci sono più quel tipo quel tipo di giocatori non c'è più in NBA adesso sì sì no anche Lebron anche Lebron sicuramente nome di nome o Simone avete già parlato di Duncan sì grossomodo sì Franz ha detto spesso che Budenholzer sta provando diversi quintetti per non essere troppo Giannis dipendenti ai playoff secondo te hai riuscito a cavarci qualcosa sì c'è stato un periodo in cui i Bucks sono andati forti in cui c'erano tutti e per me non giocavano nemmeno male Giannis veniva usato spesso da bloccante molto spesso senza palla e i risultati arrivavano che sia il modo giusto per vincere nei playoff non te lo so dire non so dirti ma sicuramente qualcosa di diverso stanno provando a fare ci sono riusciti a tratti oh ma Fede che figata di video fa vedi l'ho istruito bene mi prendo il merito no non è vero è bravo è bravo due commenti Franz su Damian sprivo e lo Weber intanto sprivo e lo Weber allora ti dico Weber quei Sacramento Kings mi piacevano un casino la squadra giocava meglio in NBA all'epoca e Weber faceva soprattutto degli assist incredibili Spriwell mi è piaciuto tanto nell'anno dell'NVP di Garnett a Minnesota aveva già 34 anni ma giocava una stagione impressionante se devo scegliere ti dico Weber tanto nessuno dei due ha vinto però come tipo di giocatore Weber mi piaceva parecchio due commenti Franz su Damiano che non è quintetto dell'All-Star Game e chi toglievi Donchich cioè il quintetto dell'Ovest ragazzi è qualcosa di mai visto prima Donchich Curry Lebron Jokic Leonard cioè non non si è mai visto un quintetto così dall'altra parte c'è Kyrie Irving Bill Bill Durant Giannis Embid però il quintetto dell'Ovest è illegale francamente illegale buttaci dentro Anthony Davis anche magari il posto di chi Bo o Lillard al posto Bo di chi purtroppo la copertina è corta dovrebbero fare quattro squadre per lo Star Game un quadrangolare sembra una cosa se Caruso dovesse andare in una squadra dove potrebbe giocare da titolare ed essere protagonista pensi di disputare uno Star Game no non credo a dispetto del tuo nome The Caruso non credo è un giocatore molto intelligente molto 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 intelligente ma che non credo possa diventare la prima punta di una squadra a tal punto o succede una cosa tipo Atlanta Hawks del 2015 che hanno mandato quattro giocatori allo Star Game ed erano tutti e quattro sicuramente non delle stelle incredibili perché erano Tig Corver Orford e Millsap quindi o di capita una squadra del genere che hanno trovano un modo di giocare per cui tutti sembrano dei fenomeni oppure non credo purtroppo per lui cazzo i Sonics di The Rain Man lì si parla ancora anni 90 domanda difficile primo e secondo l'NBA 2010 2020 uff primo e secondo quintetto l'NBA 2010 2020 oddio è complicato molto complicato e lebron ci deve stare Stephen Curry ci deve stare Kevin Durant quindi Stephen Curry Lebron James Kevin Durant o io ci metto dentro Clay Thompson che a me ragazzi ha sempre fatto impazzire e boh sinceramente boh è una domanda troppo difficile per risponderti così in live a bruciapelo Wiggins ha una defensive rating del 38 9% con quasi 18 punti a partita e 53% diventerà uno star a Rosaria Rosaria Rosario su Wiggins all star ci avrei più puntato a Minnesota che a Golden State però Golden State con meno pressione può fare anche cose buone il problema è che a Golden State lo star è uno e nella Western Conference i giocatori nello stesso ruolo più forti di lui sono N per cui anche a livello statistico per cui non credo possa diventare uno star a maggior ragione se dovesse rientrare Klay Thompson l'anno prossimo dovrebbe in teoria andare a ricoprire un po' quello che fu il ruolo di Harrison Barnes nel 2015 mi verrebbe da dire Franz ha visto le Finals 2008 dei Celtics Rondo senza tiro passatore geniale il suo cambio è di House Sam Casselli invece tiravano tutto quello che gli passavano sì ma ti dico era costruita bene quella squadra senza ombra di dubbio e poi aveva due giocatori come Garnett e Allen che dovevano vincere assolutamente perché Garnett aveva già 30 anni più di 30 anni 31 forse Ray Allen più o meno pure credo ed erano all'ultima vera occasione per cui nel 2008 hanno stradominato la regular season e poi nei playoff hanno rischiato perché hanno vinto due gare sette credo da che ricordi io al primo turno e al secondo turno Aldridge potrebbe somigliare a Totò McDice mi era venuto in mente sì Aldridge ma secondo me Aldridge dà meno randellate non so come dirtelo in parole povere ma McDice quando c'era da menare menava anche lui e Aldridge secondo me allarga un po' di più il gioco cioè ha la mano per allargare di più il gioco rispetto a McDice la chiave dei Bucks è Holiday al momento sembra proprio di sì non trovi che per Lillard sia frustrante restare dov'è mettendoti nei suoi panni con il suo talento non ti viene voglia di fuggire Marco qua sfondi una porta aperta nel senso che se Lillard rimane a Portland è quasi certo che non possa vincere niente a meno che non arrivi qualche qualche fenomeno ma chi può arrivare ormai si parlava molto di Adetokumbo prima che firmasse l'estensione contrattuale che aveva già un mezzo accordo con Lillard per andare a Portland ma il fatto è cosa vuole fare Lillard della sua carriera cioè se vuole restare lì e diventare la bandiera di Portland perché ormai comunque ragazzi anche lui inizia ad avere un'età per cui dovrà prima o poi anche lui pensare a cosa fare del suo domani io credo non sia un giocatore disposto a svendersi per andare a vincere l'anello da qualche parte è l'impressione che mi ha dato almeno almeno a me e anche a parole l'ha detto più volte però sarebbe un peccato vedere comunque è sempre un peccato vedere determinati giocatori terminare la carriera senza aver vinto nemmeno un titolo ecco Lillard è uno di questi come fu in passato ad esempio Steve Nash uno di quelli che proprio mi è dispiaciuto non vedergli vincere un anello cosa può diventare Donovan Mitchell Grande France sempre top grazie Steppen cosa può diventare Donovan Mitchell un fenomeno ragazzi un fenomeno ha iniziato anche a distribuire assist come cioccolatini per cui che cosa puoi dire a un giocatore che ha è nella squadra è la stella della squadra col miglior record in assoluto della Lega è la stella della squadra che gioca meglio che attacca meglio e al momento non gli puoi dire niente infatti più che Lillard secondo me è il fatto che non ci sia nessuno a parte l'allenatore degli Utah Jazz ma che non ci sia Donovan Mitchell in quintetto ad ovest ho capito che Doncic è Doncic per carità però non è che stia andando benissimo a Dallas se ne facciamo un fatto statistico questi è chiaro che saranno i titolari sempre perché sono dei giocatori che 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 giocano insomma che sono spettacolari che mettono statistiche importanti ma Donovan Mitchell questa stagione sta giocando benissimo benissimo e per me ha ancora notevoli margini di miglioramento per cui in America si dice the sky is the limit ciao ho iniziato a seguire l'NBA da qualche mese mi sto appassionando sempre di più cosa ne pensi di Giannis dopo può arrivare e dove può arrivare in carriera ciao Samuele intanto benvenuto nel mondo dell'NBA cosa ne penso di Giannis penso che sia arrivato il momento a 27 anni di fare qualcosa di diverso è cresciuto tanto nel corso degli anni fisicamente tecnicamente è una bestia è una bestia senza mezzi termini un freak della natura ma deve cercare di fare qualcosa di diverso perché negli ultimi due anni due volte MVP ma si è scontrato sempre con lo stesso problema cioè il muro e secondo me anche una scarsa capacità di letture quando viene raddoppiato deve migliorare secondo me qualche ancora margine di miglioramento in molti dicono che debba tirare da tre che debba mettere un tiro accettabile io non lo so non so se sia la via più giusta per cioè è chiaro che se tu a uno come Giannis ha detto Kumbo gli metti anche in mano un tiro da tre affidabile diventa il got diventa il giocatore più dominante di tutti i tempi non potrà mai mettere un tiro affidabile sta provando sta provando a tirare senza esitare però è anche vero che nella striscia di vittorie dei Milwaukee Bucks di quest'anno tipo 6-7 vittorie consecutive adesso non ricordo i tiri da tre di Giannis sono stati pochissimi quindi i Milwaukee Bucks sono strutturati come squadra per avere un certo tipo di Giannis Adetukumbo cioè quello che va come un treno e poi scarica è circondato da tiratori è circondato da tiratori anche il centro è un tiratore probabilmente per cambiare tipo di gioco non ha la squadra ideale per poterlo supportare forse è una mia opinione e vedremo vedremo però sicuramente già solo per il fatto che è due volte MVP sarà un all-of-famer senza ombra di dubbio e ho paura che al termine di questo contratto quindi avrà 31-32 anni lui sì a differenza di Lillard potrebbe dire sai cosa c'è vado a giocarmi l'anello magari con altri due superstar con altre due superstar e chissà 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 qual è il miglior all-star game della storia qual è il miglior all-star game della storia e allora quelli degli anni 90 erano partite più o meno vere però erano poco spettacolari cioè erano partite secondo me la giusta via di mezzo è l'all-star game del 2001 tu l'all-star game del 2001 vai sul sicuro se vuoi farti invece una maratona guardati quello del 2003 l'ultimo di Michael Jordan che nel corso della partita non è stato un granché però dopo sul finale diventa probabilmente uno dei più belli di sempre te lo ricordi il mitico Tom Gugliotta beh certo perché mi fai questa domanda di Kembe Mutombo un po' Londo Mukamba Gianjacqua Mutombo Nash due titoli personali li ha vinti Dame manco quello sì Rick però sono sicuro che Nash baratterebbe almeno uno dei suoi due MVP per un anello ciao Franz cosa ne pensi di Melly e del suo futuro in NBA ciao Federico ben arrivato intanto cosa penso di Melly pensavo che fosse nell'ambiente giusto ai Pelicans perché Zion Williamson aveva bisogno di tutto forché di un giocatore che riempisse l'area come Steven Adams evidentemente o ci ho capito poco io o magari ha fatto una cazzata il GM di New Orleans ma continuo a dire che Melly sia il fit più corretto e più più naturale con Zion Williamson perché allarga il campo difende fa cose semplici e già l'anno scorso si era visto tra l'altro i Pelicans hanno iniziato un attimo a cambiare il loro gioco cioè Zion ha la palla molto più in mano hanno trasmesso la partita contro Jamorant recentemente su Sky una partita bella tutto sommato Zion sta crescendo continua a fare solo quello nel senso che non pensate che possa fare chissà quali cose fa quello ma lo fa benissimo leggevo una statistica che Zion Williamson è l'unico giocatore che dopo le prime 50 partite di NBA ha una tira con oltre il 60% dal campo cioè neanche Shaquille O'Neal tirava con queste percentuali per cui fa riflettere il problema è che lui si non avendo all'altezza se non mette un po' di tiro per lui può essere dura il futuro ti piace Rashid Wallace beh a chi non piace a parte il tuo nome non ti pronuncio sei l'impronunciabile per me l'innominabile però si Bold Online Rashid tra l'altro la pedina mancante dei Pistons del titolo del 2004 che alla fine tutto cambiò quando arrivò lui tramite da Portland fece tappa ad Atlanta giocò una partita ad Atlanta Rashid Wallace tra l'altro con grandi statistiche tipo 26 punti 5 stoppate eccetera e dopo quella partita lo tradarono ai Pistons quindi pit stop Atlanta e via i Pistons Gianni se la meccanica di tiro proprio non ci siamo c'è poco da fare anche perché se hai quel fisico mi sa che è proprio difficile ma come fai a fare tutti questi contenuti gli altri youtuber che seguono fanno massimo tre video a settimana moltissimi sei un pazzo Riccardo ma in realtà ho trovato questo ho trovato questo questo le reaction cioè ragazzi io ci metto veramente mezz'oretta a farle il tempo di guardare la partita commentandola montare il video in 5 minuti perché ho già il template pronto e metterlo online per cui in realtà la reaction non ci metto pochissimo a farlo ho trovato questo format che mi prende poco tempo e comunque è bello da fare perché mi piace vedere le partite proprio appena sveglio e comunque poi è bello commentarle anche con voi quindi ho trovato questo format che mi piace parecchio e continuerò a fare poi per gli altri contenuti dipende molto spesso anche mentre sto lavorando mi viene in mente magari un tema e me lo segno e ci scrivo poi giù un testo in 448 per il momento va così e finché regge sono contento di continuare a portare contenuti perché mi diverte e vedo che comunque c'è un certo ritorno per cui mi piace insomma chi è il giocatore più forte di sempre senza anello chi è il giocatore più forte di sempre senza anello allora se guardiamo le statistiche ti potrei dire Karl Malone che è il secondo miglior realizzatore di tutti i tempi e non ha un anello potrei dirti Steve Nash che ha vinto due MVP di fila e non ha un anello se no se torniamo indietro nel tempo non ti saprei dare grandissimi altri nomi però sì secondo me secondo me per l'impatto che ha avuto a livello statistico è Malone Malone e Stockton poi perché vanno via in coppia come i coglioni in coppia insomma Curry e Lebron li vedremo mai in squadra assieme no dubito fortemente a meno che aspetta a meno che nel draft quando scade il contratto di Lebron c'è il figlio che viene che entra nell'NBA quindi se Bronny viene scelto dai Golden State Warriors Lebron va a giocare con lui un anno quindi potrebbero congiungersi tutti i puntini a livello astrale Jordan Lebron o Karim Karim Rush immagino no Lebron è il punto di collegamento tra Jordan e Karim perché ha vinto titoli ed è longevo però secondo me Lebron a fine carriera e soprattutto magari tra una decina d'anni probabilmente saremo quasi tutti d'accordo su Lebron James perché il tempo sarà passato perché ci sarà sempre più gente che l'ha visto giocare nel suo prime e magari è cresciuta e entra nel dialogo per cui per me tra 5-6 anni non avremmo più dubbi cioè sarà Lebron James ho appena finito di bengalare vedendo Cagliari Torino quanto è finita tra l'altro Cagliari Torino vabbè sarà uno 0-0 scialbo Chris Paul beh aspetta di Andre Jordan cacchio deve ancora finire la carriera e già sei lì a cantare il Chris Paul no vabbè lascia di fine la carriera ah quindi non lavori praticamente no no Riccardo io lavoro assai però ho trovato questo 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 ritmo clamoroso ovvero io mi sveglio la mattina porto la bambina all'asilo nido torno a casa registro la reaction e poi vado a lavoro cioè proprio tac visto che ci metto meno di mezz'ora a farla ne approfitto hai mai pensato di creare un format a cadenza bisettimanale in cui inviti alcuni iscritti a fare un'ora di live con te magari scegliendoli in base alla fedeltà nel caso mi prenoto Fabrizio potrebbe essere una buona idea però c'è anche da allora su Twitch in realtà qualche volta l'abbiamo già fatto perché ho un canale ho un server su Discord abbiamo fatto una lega d'Ankest ho fatto una lega d'Ankest con altri quanti siamo 14 forse con altri 13 iscritti e abbiamo fatto tutta l'asta per una sera su Discord in live su Twitch e ci siamo divertiti parecchio con le estrazioni con le scelte eccetera e per cui potrebbe essere potrebbe essere un'idea da cavalcare se c'è qualcuno che vuole offrirsi per me è il benvenuto Franz se mi leggi non pensi che Yao Ming sia il goat dei cinesi in assoluto sì ok tra l'altro in quegli anni tu ridi ma in quegli anni c'era Yao Ming che per carità era Yao Ming ma c'era anche un altro cinese che ha giocato a Dallas mi pare no mi viene Li Yang Wan ma quello è arrivato dopo c'era un altro cinese o coreano no credo cinese che giocava a Dallas devo ritrovarlo no Jeremy Lin no no era un lungo cinese proprio con la faccia da 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 ristorante cinese come è da dire comunque devo trovare cercate allora digitate perché io non riesco adesso cercate roster Dallas Mavericks Wang Gigi bravo Tommaso Wang Gigi ragazzi Wang Gigi era giocava ai Dallas Mavs io mi ricordo magari mi sbaglio ma mi pare di ricordarlo ai Dallas Mavs era un lungo cinese precursore cioè era era Andrea Bargnani prima di Andrea Bargnani Wang Gigi ragazzi ma era una squadra clamorosa quei Dallas Mavericks c'era Wang Gigi c'era Eduardo Najera il messicano c'era Dirk Novitski e Steve Nash quindi c'era un cinese un messicano un tedesco un canadese ragazzi tanta roba puoi parlare un po' dei Knicks ciao Antonio Vito Rossetti benvenuto allora i Knicks ultimo argomento che siamo un'ora e mezzo non volevo dilungarmi troppo perché su Twitch magari faccio live anche di due tre ore ma qua preferisco limitarmi magari all'oretta e mezzo allora parliamo un po' dei Knicks quando i Knicks hanno scelto Tom Thibodeau come allenatore io ma non solo io in molti si è detto che avevano fatto la scelta sbagliata per il tipo di roster che aveva New York cioè Thibodeau è sempre stato uno che diciamo ha avuto cattivi rapporti con i giovani che vuole i suoi pretoriani e infatti comunque adesso sono arrivati Tash Gibson ed Eric Rose e non credevo che potesse riuscire a convincere giocatori di quel tipo come Randall come Barrett come Alfred Payton come Austin Rivers quella gente lì a difendere forte in questo modo invece i Knicks ragazzi sono la classica squadra di Thibodeau difende fortissimo adesso vi dirò è da un po' che non vedo una partita intera dei Knicks devo essere sincero ma dalle ultime che avevo visto difendevano fortissimo però offensivamente sono una squadra di Thibodeau ovvero attacco statico basato su principalmente isolamenti di Randall che per il momento sta rendendo da all star cioè sta avendo delle cifre e delle statistiche impressionanti e ce l'ho in Dunkest quindi è anche giusto così ha scoperto quickly insperatamente scelto la 25 mi pare e e ha trovato di fatto il play play diciamo play del futuro è arrivato Derek Rose che comunque palla in mano qualcosa ti crea e per me ragazzi possono finalmente tornare i playoff dopo l'ultimo anno di Jason Kidd ragazzi Hobbit Hoppin per il momento è ancora un po' invalutabile invalutabile fisicamente un ottimo giocatore io mi sento di paragonarlo molto al momento a tornando ai primi anni 2000 a Kenyon Martin Hobbit Hoppin Kenyon Martin fu la prima scelta assoluta dei New Jersey Nets nel 2000 o 2001 2001 e grandissimo atleta zero praticamente zero tiro aveva una meccanica di tiro ripilante però con Jason Kidd sembrava un fenomeno ecco Hobbit Hoppin se avesse magari un giocatore come Trey Young un playmaker in grado di innescarlo soprattutto ad alte quote per me potrebbe fare di più in quel contesto di New York boh lo vedo un po' limitato limitato ci voleva Thibode per Inez ma sei pazzo ma secondo te Kevin Durant Kerry Irving e James Harden prendono un allenatore che li stressa da mattina a sera hanno preso Nash che sanno che è un ex giocatore probabilmente li gestisce proprio come fosse ancora in campo anche lui scusatemi bevo un goccetto comunque ora una domanda seria Franz parli un po' della dinastia dei Warriors anche se il 100% di noi la conosce già beh io mi sbilancio totalmente i Golden State Warriors sono stati la squadra più forte di tutti i tempi vai offendetemi offendetemi per me sono stati letteralmente ingiocabili ingiocabili parlo della squadra con Kevin Durant senza Kevin Durant in regular season sono stati ancora più ingiocabili però la chiave di quella squadra è che un po' come la chiave dei dei Warriors di adesso è quel cazzone di Draymond Green che sa fare tutto e non sa fare niente cioè ti mette 5 punti di media a partita e ti domina le partite perché difensivamente è un fottuto genio perché ci sono state un paio di partite in cui ha piazzato 15-16 assist e perché ha delle letture pazzesche la chiave di quella squadra è Draymond Green che da solo riusciva a tenere in piedi una difesa intera pur con tutti i limiti che aveva che poteva avere quella difesa chiaro che Clay Thompson è un grande difensore chiaro che Kevin Durant difende difende bene chiaro che anche Stephen Curry è diventato nel corso degli anni un difensore come dice Alfredo neutro cioè pur essendo piccolino non va sotto con nessuno ma lui copriva tutto copriva tutti tutti i buchi possibili veramente è un giocatore uno dei più intelligenti forse dell'era moderna del basket sa fare tutto ma non gliene frega niente di fare tutto lui a lui basta vincere e e poi vabbè insomma ha dei grossi limiti mentali mettiamola così cioè diciamo che gli parte la brocca un po' troppo spesso e a qualcuno l'ho paragonato recentemente al Rodman dei nostri anni eccola qua Rick ti ho anticipato e come paragone ci può ci può anche stare detto detto internos ci può anche stare a livello di attacco come giocavano guardate faccio sempre il paragone con i San Antonio Spurs del titolo del 2014 offensivamente i San Antonio Spurs del 2014 soprattutto alle finals hanno raggiunto un livello di efficienza mai raggiunto prima e per me solo che sono durati quel periodo lì sono durati il periodo dei playoff finals a giocare in quel modo i Golden State Warriors hanno giocato in questo modo per cinque stagioni di fila cioè io ricordo 2017 2018 2019 anche se poi hanno perso con tutti gli infortuni nel 2019 ma in questi tre anni la stagione iniziava che sembrava che si dovesse giocare tanto per perché tanto avevano già vinto quegli altri una sensazione di tale superiorità nessun'altra squadra prima l'aveva data secondo me sono stato esaustivo tiravano col 60 dal campo con i San Antonio Spurs Delfa penso anche 70 hanno chiuso il primo tempo di gara tre o quattro di quelle finali non mi ricordo col 75% cioè ed avevano contro i Miami Heat che erano sulla carta la miglior difesa dell'NBA li hanno proprio devastati devastati giocavano in una maniera come direbbe il buon il buon Flavio Tranquillo vorticoso attacco di San Antonio Spurs credo che i Lakers abbiano già finito di montare la squadra speriamo che AD non sia troppo lesionato AD fuori un mese almeno si parlava inizio live speriamo che insomma possa rientrare anche perché sarebbe veramente brutto che magari stesse fuori tutta la stagione speriamo di no ciao Franz chi metteresti questa giornata capitano al Dunkest fra Vucevic Eiton e Jamal Murray io vado sempre con Vucevic anche perché i Golden State Warriors sono senza centri quindi vai con Vucevic Giulio aspetta mi sono assentato qualche minuto non so se hai risposto alle mie domande il quintetto di quest'anno secondo te batte il quintetto del 2001 con Kobe Garnett Duncan e Webber beh vabbè nel 2001 era proprio un esperimento incredibile in quello Stargame c'era Kid Kobe Garnett Duncan Webber e poi c'è stato un momento nello Stargame quello forse l'ultimo di Jordan in cui c'erano Kobe Duncan Garnett Dirk Novitsky Sheck cioè una roba mai vista giocatori potrebbero arrivare ai Lakers ma l'abbiamo detto prima se i nomi che circolano sono quelli di Trevor Arisa e di di Georgil che sarebbero entrambi da buy out con gli Oklahoma City Thunder però sono giocatori diversissimi da Anthony Davis ma al momento è quello che c'è sul mercato c'è anche il nome di Mobamba ragazzi sarebbe un peccato perché separare Mobamba dai Magic con la Magic Bamba sarebbe un grave errore per gli Orlando Magic secondo me e per il loro marketing ma tant'è live con Flavio tranquillo è troppo complicato volendo potrei anche chiederlo ma dopo veramente sarei troppo in soggezione perché comunque è una persona che ti mette in soggezione Iliasova chi se lo piglia la moglie forse non lo so ha già parlato del gioco da ieri ah allora più che altro siamo a un'ora e tre quarti quindi direi di avviarsi verso la chiusura vi chiedo anzi vi coinvolgo prendo un attimo il comando di questo pc vado sul sito NBA e vi illustro le partite di domani se volete lo faccio via ASMR allora partite di domani vai questo A di blocker allora 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 Warriors Orlando Magic Denver Nuggets Cavaliers non si può perché i Nuggets sono nella lista nera Chicago Bulls Philadelphia 76ers Oaks Celtics non si può Pistons Grizzlies Thunder Bucks non si può o si può boh non mi ricordo Suns Pelicans Raptors Timberwolves Utah Jazz Clippers Uncherry Match Jazz Clippers ma sto guardando sul sito giusto ma che cazzo allora Sky Sport NBA eccoci qua allora le opzioni che vi do quindi state molto attenti per la reaction di domani non si rai da nessuno Marco Bissoli mi dispiace se volete finita questa live su YouTube vado un attimo live su Twitch e facciamo un ride così al volo giusto per finire la serata allora vi propongo vi propongo queste partite poi voglio che mi rispondiate direttamente in chat quella più votata o che leggo io al volo che è più votata sarà la reaction di domani allora le partite che vi propongo sono Golden State Warriors Orlando Magic Chicago Bulls Philadelphia 76ers Phoenix Suns New Orleans Pelicans All Rematch Utah Jazz Los Angeles Clippers sono quattro partite 3-2-1 via al televoto con Twitch sarebbe stato tutto più facile sì è vero è vero anche perché ci sto già capendo un cacchio praticamente mi pare Jazz Clippers anche se Suns Pelicans Vancouver San Luis bella bellissima urca insomma pensavo che Jazz Clippers potesse dominare un po' di più invece questo Suns Pelicans sta sta imperversa che razza di idioti ma di Ken Mutombo ascolta c'ha il nome più lungo di chiunque altro lo vedo che stai votando più volte non sono ancora rincoglionito nonostante l'età allora eh siamo più o meno lì ragazzi allora domani mattina visto che sarò a casa e non lavoro andiamo di doppia reaction dai siamo più o meno la metà Jazz Clippers e Suns Pelicans domani mattina direi che ci sta scegli tu Roccia mamma mia adesso non riesco neanche ad alzarmi da questa sedia ragazzi dico stop al televoto ma ho sempre sognato di dirlo stop al televoto ehm Franz che lavoro fai? eh lavoro in una software house ma scusa non lavori perché non la facciamo insieme su Twitch va bene l'altra opzione la terza opzione però questo costringerebbe tutti a seguirmi su Twitch è ci vediamo domani eh ma devo sentire la moglie devo concordare queste cose lo sapete come funziona alla fine che in una coppia non comanda mai l'uomo e quindi eh devo devo concordare la live su Twitch ho sentito doppia reaction ecco è spuntata mia moglie in chat allora moglie visto che mi stai ascoltando e che scrivi in chat mia moglie è Elisabetta Cabras visto che mi stai ascoltando se domani facessi una live su Twitch dopo pranzo per vedere gli highlights insieme ai miei compagnucci di merende me la lasci fare la segnaliamo la banno adesso siete grandi cazzo no no vabbè casa Fran dai signora Elisabetta dai moglie vabbè mia moglie è già famosa su su Twitch come donna con l'H adesso diventerà famosa anche su YouTube ultima domanda da farti il vero gott non è Alex Caruso ma certo ma certo ma certo Mamoli dice che secondo lui questo infortunio di Davis lo porterà molto probabilmente anche in fondo guarda io ho avuto ospite Mamoli su questi canali infatti se volete andare a rivedervi la live di un po' di mesi fa a parte essere uno molto alla mano ma sì se lo dice Mamoli vuol dire che un fondo di verità probabilmente c'è o comunque un fondo di preoccupazione e nell'ambiente Lakers c'è anche perché conosce un insider che poi insomma è abbastanza famoso praticamente collabora fa l'insider Lakers un po' per tutte le riviste i giornali d'Italia per cui se la fonte è quella probabilmente c'è un fondo di verità va bene allora se vedete le reaction domani mattina spuntare su youtube vuol dire che non faccio la live su twitch se invece domani mattina non vedete le reaction su youtube ci facciamo una bella live su twitch dopo pranzo ci guardiamo gli highlights insieme e dopo casomai posso ricaricare solo che non posso prima di 24 ore al limite ricaricherò la reaction fatta con boob il giorno dopo io ragazzi la finisco qui vi saluto vi ringrazio tutti spargete il verbo mettete un like a questa live se vi è piaciuta noi ci vediamo venerdì prossimo sempre qui su youtube presumo per quanto riguarda twitch cerchiamo di ricavarci lo spazio anche lì perché lì insomma ci divertiamo è più collaborativo è più si gioca un po' più insieme con i quiz con le immagini con i sondaggi le prediction è un po' più interattivo ultima domanda ok ultima domanda dopo chiudo Mammol in live ha detto anche Arden giocava così a Houston perché magari non aveva una rosa a titolo neanche nell'anno con Chris Paul no è vero l'ho detto anch'io non mi ricordo se in qualche video ma l'ho detto anch'io cioè che alla fine a Houston Arden probabilmente giocava in quel modo perché non riteneva i compagni all'altezza qua si vede che probabilmente li ritiene ampiamente all'altezza che dire grazie a tutti non mi sono neanche finito la birra me la finirò adesso noi ci vediamo nei prossimi giorni il secondo episodio uscirà degli Hall of Famers con Kevin Garnett ve lo anticipo martedì della settimana prossima ci sarà l'aggiornamento della Rookie Ladder quindi diciamo i nuovi primi 5 Rookie della stagione e poi basta vi ringrazio grazie a tutti e noi ci vediamo nei prossimi giorni e a venerdì prossimo un saluto giovani e meno giovani ciao